Adesso andiamo in scalabilità, quindi ipotizziamo che io abbia lanciato il mio prodotto o servizio o sono una startup e ho lanciato e quindi a questo punto le cose vanno bene. Inizio a mettere i motori alla mia bicicletta che all'inizio volevo fare il mio viaggio per capire se il panorama è ok, a questo punto metto i motori, inizio ad andare a un'altra velocità, ho la mia macchina che funziona, da aggiustare continuamente, però la mia macchina che è funzionale, a questo punto non la riscaldita. Ho un problema. La prima cosa da sapere è che la crescita non è sempre una cosa positiva. La crescita drena soldi, la crescita aumenta la confusione, la crescita fa aumentare i costi, quindi tutto bello, mi piacerebbe dirvi che è tutto bello, ma in realtà i fatti, l'abbiamo visto su di noi, lo vediamo nella tende con noi, siamo riusciti veramente a scalare, dobbiamo stare molto attenti a quest'area qua. Allora, partiamo. Per farlo, andiamo a cercare, quali io, di schematizzare la cosa, in modo da rendere l'advisiva. Ne abbiamo bisogno noi e cercheremo di ripassarla. Immaginate di avere questi due livelli al momento, che sono la parte di prodotti e servizio, la base del business è fatta una cosa, da un prodotto e servizio che io voglio vendere, e dei clienti che me lo comprano, ok? Se mancano dei due, ragazzi, siamo alla base. Nel momento in cui l'avete lanciato, cosa succede? Che entrambe le aree, quindi la parte bassa, quindi i prodotti e servizio, dovete immaginarle che iniziano ad espandersi. Quindi il mio prodotto e servizio l'ho fatto crescere di qualità, di caratteristiche, di elementi, sui miei clienti sono la cosa più importante che ho. Quindi clienti è la cosa più importante. Un'azienda che non ha clienti non è un'azienda, ok? È un bel sogno. Quindi sul lato clienti potremmo entrare, aprire questa scatola qua e sul lato, chiamiamola customer care, vi potrei dare una varanga di informazioni utilissime e specifiche. Non entrerò nei dettagli, voglio solo darvi un concetto, che è questo qua. Lato clienti, perché il prodotto e servizio è il vostro, c'è te voi che dovete sapere come migliorarlo in base ai feedback che continuamente ricevete, il customer care dovrebbe rispondere a tre domande, a tre ostacoli. Il primo è risolvo il problema. Cosa chiedete quando avete un problema e chiamate un customer care? che ovviamente ve lo risolvono, ok? Ma non è finita qui. Se volete fare un customer care di eccellenza, la seconda cosa non deve essere impegnativo per le persone. Non c'è te lo faccio in modo facilissimo per te. La terza cosa, se riusciamo a farlo e siamo anche simpatici, boom. Questo diventerà una leva di marketing che le persone diranno, wow, ho chiamato la tal cosa, avevo questo problema, me l'hanno risolto. Non ho dovuto fare nulla e sono stati anche carinissimi. Quanto prende nella nostra percezione la qualità di quella tipologia di attienda? Ricordatevi che il basamento di ogni business sono i prodotti che ho, i serviti che ho e ovviamente i miei clienti. Sono la cosa più importante. La seconda cosa, ovviamente, è dobbiamo avere una macchina di crescita, quindi quello che abbiamo appena parlato. E come macchina di crescita quali sono i quattro elementi per provare a sintetizzare tutto ciò che abbiamo visto? Sono ovviamente avere una strategia chiara, strategia chiarezza, devo avere una roadmap che vi permetta di dire ok, faccio le varie cose. Ragazzi, sbagliare la roadmap vi crea problemi, è un elemento importante. Il piano di esecuzione, progettarlo, quando lo facciamo, chi lo fa, è importante. La terza cosa sono le KPI, dovete avere dei numeri su quello che riguarda il processo di vendita, trovare commerciale, e ovviamente andare in esecuzione. Questi quattro blocchi dovrebbero un po' sintetizzare tutta la macchina di crescita. Però, se fate caso, da questo punto di vista, dalle basi che ho creato, lato, chiamiamolo prodotto e servizio, e il mio cliente, e sul secondo livello, che sono la macchina di crescita, in realtà voglio arrivare ad arrivare alla S, che non è quella di Superman, ma è della scalabilità. Io vorrei arrivare qua. E scalabile cosa vuol dire? Vuol dire che è una tienda che, dal nostro punto di vista, ha due elementi importanti. Il primo, di cui io riesco a uscire dall'operatività, e riesco a fare veramente dall'imprenditore a quasi l'investitore della mia stessa tienda. Quindi metto liquidità alla mia macchina che riesce a girare. E' facile? No. No. Sicuramente nelle PMI italiane, che rappresentano più del 95%, ovviamente noi siamo molto dentro le realtà. Però, uscire da questa realtà ti permette di vedere la tienda in un modo diverso. L'altra cosa è che permette di poter salire sui numeri economici. La scalabilità ovviamente ci permette di dire, che se adesso ho speso 10, riesco a fatturare 100, se spendo 50, dovrei più o meno fatturare 500. Inizio ad essere prevedibile da questo punto di vista. E per arrivare il gap su questi tre elementi, si basa su tre colonne, su cui, secondo noi, si basano le reali scalabilità. E quello che serve è migliorare, fare un aggiornamento del, chiamiamolo, sistema operativo a che da. Vi ricordate i computer che avevamo 15 anni fa? Era una roba che andava lentissima. Tre anni fa andavano lentissimi rispetto a quello che c'è adesso. E i computer che stanno tra tre anni andranno a una scheggia, perché è un aggiornamento continuo del sistema operativo. Ovvero, da cosa è creato un sistema operativo aziendale? È creato da un insieme di algoritmi, di linguaggi comuni, che sono in grado di comunicare con i differenti componenti per raggiungere il risultato di zenzio. Ok? Quindi ci sono diverse cose. Si parla di algoritmi, tecnologie, si parla di linguaggi comuni, e si parla di risultati. Questi sono i tre elementi su cui abbiamo voluto cercare di passare la coda. Un'azienda ha bisogno di un aggiornamento del sistema operativo? Chiunque ha bisogno del sistema operativo. A maggior ragione, se ci sono uno, questi problemi qua, cioè, se vi capita che avete, che ne so, piani non perfettamente definiti e magari male eseguiti, per come li vorreste voi, dal vostro team, che magari ha una persona, o magari dieci persone, o magari cento persone, dipende dall'azienda in cui voi siete, se il lavoro diventa caotico e sembra nulla importante, sembra essere fatto, che le cose vengono detto urgenti, cioè, c'è sempre l'urgenza, se ai membri del team deve essere costantemente detto, cosa fare, e nessuno sa cosa sta succedendo dentro l'azienda, se i rinunioni sembrano una perdita di tempo, se i profitti sono bassi, anche se le vendite ci sono, quante volte capita che un'azienda cresce, ma la marginalità si schiaccia, e il prossimo si va in perdita, per farvi gli esempi, se sei l'esausto e pronto a smettere, che ne dici, ma basta, io mando tutti a casa, e basta, mi ritiro, se avete questi problemi, e quindi vuol dire che è più l'azienda, che possiede te, che è tu che possiedi l'azienda, o la crescita non è, in questo caso diventa una bella cosa, o se devi installare, aggiornare il tuo sistema operativo, potrai poter far crescere e scalare l'azienda, anche il centro di te, questi sono poi i tre elementi, per farlo, queste sono le tre, le tre colonne, i tre elementi, che un'azienda necessita, per poter scalare, questi sono i tre blocchi, che aiutano, in questa fase, il nostro, palazzo, tempio, chiamatelo come vi pare, con tutta una serie di, attività, adesso ve le, piego una per una, ma sappiate che ognuna di essa, immaginate come una scatola, in cui dentro ci sono, un sacco di cose da fare, l'insieme dei processi, porta a creare, questo processo di scalabilità, ok? Quindi create quello che è il vostro palazzo. Partiamo da, quella che è la guida agendale, la prima cosa che serve, e ve la metto qua a sinistra, come concetto, la prima cosa che vi serve, è la guida agendale, cioè come voi, l'avete pensata, come voi volete che le persone si comportino, quali sono le regole fondamentali, quali sono i valori, quali sono, questa è una cosa fondamentale, perché senza questa, sappiate che, dopo di essa, si commetteranno una valanga di errori. E quali sono i quattro macro blocchi, i cui un'azienda deve avere? La prima è definire i valori aziendali, i valori sono interni ed esterni, i valori interni sono come noi vogliamo comportarci a livello di comunicazione tra di noi, quali sono i valori che vogliamo tenere, gli ALE ci siamo messi lì, vi parlo già di anni fa, e abbiamo definito dei valori, che erano la determinazione, io e ALE siamo due persone determinate, perché ci reputiamo due persone medie, senza particolari talenti, però siamo determinati nel voler raggiungere determinati obiettivi, sia nella vita professionale, che nella vita personale. io amo gli sport, ma sono fatto la maratona perché competevo con me stesso, se adesso gioca a beach tennis, se io voglio andare a fare torredi, voglio vincere, sono competitivo. Quindi, cosa succede? La competitività, valori interni, determinazione, disciplina. Riteniamo che un'azienda, se non c'è disciplina, se le persone non fanno quello che noi vogliamo, quello che facciamo, dentro un loro canovaccio, non è che siamo così, si crea il caos. L'altro valore, sono quattro, è la responsabilità. Vogliamo essere, noi siamo persone responsabili. Io sono prima di tutto un padre di famiglia, ho due figli, ho una famiglia, devo essere responsabile nei confronti miei, della mia famiglia, e della mia azienda. e vogliamo che questi valori siano o migrati o acquisiti nelle persone che lavorano con noi. Responsabilità. Noi nel 2021, durante il Covid, abbiamo raggiunto il picco più alto di fatturato. Solo nel, per darvi dei riferimenti veri, solo nei primi tre mesi abbiamo fatto un milione di euro di vendite. Che per un'azienda come la nostra, ragazzi, sono importanti, non è che siamo un'azienda che vende prodotti di massa. Perché? Perché le persone che lavoravano nelle varie, mentre erano in Covid, ognuna a casa sua, erano responsabili. Se no sarebbe stato il caos. Ed erano disciplinati. E delle loro determinate ad aggiungere obiettivi. Il quarto valore, per noi, vi sto raccontando i nostri valori, è la reciprocità. Devi condividere con le altre persone, devi ricevere, devi sapere accettare le diversità. Ieri voi non ci avete fatto caso. Vi abbiamo messo Nicola, che viene da Napoli, a fianco ad Andrea, che viene da Milano, che avete sentito gli accenti completamente diversi. Uno magari più nerd, uno magari meno nerd. Vi abbiamo messo uomini, donne. Vi abbiamo messo le denunce, che era più piccola, l'azienda, a fianco a Simone, che è più alto. Le diversità di endali. Ok? Quindi, i nostri valori sono quattro, non sono universali. Ogni azienda deve definire i propri valori, che partono dal fondatore o dai fondatori e cambiano le regole di tutto quello che è l'azienda che arriva là dopo. Perché a quel punto, quando io ho quattro valori, secondo voi, quando devo assumere una persona, cosa guardo? I valori. Ragazzi, l'errore di prendere persone che erano talenti bravi in determinate aree, ma non avevano valori, l'ho già pagati qualche mese fa e non lo commetterò mai più. La prima cosa che guarderò, che guarderemo, prima chi sei come persona, un bravo professionista, ti faccio diventare io. Chiaro come messaggio? Quindi un'azienda che non ha valori, non ha, è come un marinaio che sta andando con la propria barca, va più o meno, va in quella direzione lì. È un errore che se volete diventare scalabili non vi potete più perdere. Ma come? Eh? Come li valuti? I valori? Sono i tuoi. No, 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 ok, ma vedi la persona che credi. Allora, andiamo all'operatività. Non è facile. Però, no, 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 non è facile, ma è possibilissimo. Nel senso che, sui valori, la prima cosa che devi fare è valori interni, sono quelli che ti ho appena detto, e decidere i valori externi. Cioè, che è quello che poi, in gergole, hai chiamato tono di voce. Se fate caso, il nostro tono di voce è molto, molto easy going, molto, molto, a volte, una volta parla di umanità, no? Perché? Perché noi abbiamo sempre pensato che il business è fatto di persone. i tuoi clienti sono persone, i tuoi fornitori sono persone, i tuoi collaboratori sono persone. Se tu non sai a che fare con le persone, non sai fare business. Quindi, i valori partono da te, poi, in fase di selezione, questa tua domanda, molto semplicemente cerchi di fare una serie di domande dove il passato è la cosa più importante da dover analitare. Non è il curriculum. Il curriculum, ragazzi, potete anche proprio non guardarlo. è una chiacchierata che ho fatto per quelle persone, una serie di domande che fate, fatene tre, su ogni valore e, per, più banale, la determinazione, mi racconti nella tua vita quale sono a te delle situazioni che ti sono capitate, nella quale eri in difficoltà e di come ne sei riuscito. e poi, vitti e ascoltate. Cosa difficilissima per tanti, eh? Vitti e ascoltate. Ricordatevi che nella, io l'ho fatto per tanti anni, nella ricerca di selezione del personale, io vengo da quel mondo lì, è assurdo, chi domanda, comanda, è una delle regole più importanti. Simone dice chi domanda, vende. E ha ragione, perché giustamente è commerciale, quello. Nel risorso umano è chi domanda, comanda, domandare, scrivere, domandare, scrivere e chiedere, mi dici di più, mi puoi dire che altro, approfondire su quello che ci raccontano le persone. E li capite se li stanno raccontando delle balle. Quindi, è, fai domande legate ai tuoi valori. Di base, creati uno schema tale che ti permetta di cercare di capire sui valori che tu hai definito le persone cosa sono. La prima cosa che devi fare è definire i valori. Cosa vuoi comunicare? Cosa ti piacerebbe comunicare? Che alle volte questo non succede. Alcuni di voi comunichano in un modo che non è in linea con chi siete realmente. Vi parlavo anche l'altro giorno con il nostro bravissimo, fortissimo, forsemente molto forte di Bologna e dicevo tu non stai comunicando chi veramente sei ed è un peccato. Comunica chi sei veramente. E quindi questo è importante. Valori interni ed esterni. Ok? Il secondo elemento è lo scopo. Ora io lo so che esistono mission, vision però in realtà infatti secondo noi sono molto confuse le cose. Quello che fa Google, quello che fa altre tipologie di aziende è in realtà comunicarti quella che è la loro proposta. Come vogliono comunicare? Google vuole essere il motore la democrazia della ricerca per tutte le persone. Vuole facilitare questa tipologia di comunicazione. Noi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo aiutare gli imprenditori a crescere loro per far crescere un'azienda. Qual è alla fine la cosa finale che tu vuoi dare nella tua azienda? Come vuoi dare il tuo impatto nel mondo? E questo è un'altra delle cose da studiare a valutare perché rappresenta la tua comunicazione specialmente esserna. E poi arriviamo agli obiettivi. Diventa molto molto importante definire degli obiettivi. Gli obiettivi sono di quattro livelli diversi ma almeno la visione a lungo raggio la dobbiamo avere tutti quanti. Che magari è una a tre anni quella un po' più operativa una a dieci cioè immaginate proprio la scalata del mondo del monte dove andremo noi noi andremo lì tra dieci anni noi saremo questi e tu inizi a lavorare su quella direzione se tu imprenditore non hai la visione a lungo termine fai veramente fatica a passarla alle altre persone rimarrà tutto molto 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 corto come tipologia di visione quindi avere una visione a dieci anni oggi io ho 48 anni ancora per qualche giorno tra dieci anni a 59 anni dove sarà questa cliente chi sarò io come sarò fisicamente che proprietà potrei avere o meno avere una visione vi allarga vi fa espandere un po' intanto quella che è la vostra visione lo di business e lo anche personale e a tre anni a tre anni è molto più concreta chiaramente avere una visione a tre anni e lavorarci probabilmente è l'obiettivo più importante che dovreste avere chiaramente i piani finanziari o i piani industriali che richiedono gli investitori chiaramente almeno cinque anni dieci anni anche tanto poi con tutti gli imprevisti che sono nati negli ultimi anni è diventato difficile però è più una visione più che veramente degli obiettivi a tre anni invece potete mettere due obiettivi concreti e non avete idea di quanto vi aiuterebbe a voi e al vostro tema dire ragazzi quest'anno uno vogliamo fare questo quest'anno due vogliamo fare questo quest'anno tre vogliamo fare questo ok e bisogna lavorarci quindi Werner Hermisch che è uno dei più bravi lui è il fondatore di Gazdell ha scritto un libro bellissimo dice che la crescita ambientale richiede tre elementi numero uno un numero crescente di leader capaci perché alla fine se vogliamo renderci scalabili dobbiamo avere persone che diventano leader nelle loro aree numero due un sistema di marketing efficace quello che noi chiamiamo macchina di crescita e numero tre un'infrastruttura scalabile la tipologia di obiettivi vi dicevo prima sono in realtà quattro quelli che dovete realmente gestire non è uno che obiettivo hai sono quattro il primo obiettivo 10-20 anni il secondo tre anni il terzo è un anno ok che ha fatto consulenza con me e mi ha chiesto dove siamo almeno tra un anno e alcuni di voi non avevano dei chiari di un anno quindi non puoi programmare se non prendi nella tua nella tua tipologia di mentalità almeno un anno cosa farò e soprattutto puoi dividerlo in trimestri nei quattro trimestri cosa faremo nel primo trimestre cosa faremo nel secondo trimestre cosa faremo io non appena mollo un po' le regole dai trimestri vedo che mi parte il caos lo vedrete per chi ha delle aziende noi siamo più o meno in 30 e un terzo dell'azienda è operativo nel nostro ufficio gli altri due terzi sono sparsi in diverse parti d'Italia chi in Spagna chi in Polonia quindi l'Europa in realtà e devi avere delle visioni dei check up dei pro ragazzi qui sto parlando dell'imprenditore questo è un lavoro che si fa one to one si fa con te dove vuoi andare qual è la tua visione ok poi questa visione viene passata a tutto il resto del team ma la visione deve essere la tua o la tua o se siete una società o se siete un board quindi un insieme di persone se ritornate in un altro livello ieri Giorgio Pecorari ha citato Ray Dalio io questo libro me lo sono letto è un libro molto bello qui è in inglese ma in realtà l'hanno tradotto proprio qualche anni fa anche in italiano ve lo suggerisco lui è l'investitore di riferimento di Tony Robbins tanti personaggi di un certo livello di un certo calibro e questo è il suo schema lui dice la vita è fatta di di ostacoli ma è la razione che tu puoi avere lì combatto lo Stato il governo Draghi Meloni tutto quello che è oppure lì abbraccio e cerco di gestire da modo mio so che sbaglierò e noi siamo un'azienda che sbaglia quello dico subito sbagliamo noi sbagliamo a volte è normale però cosa succede che il processo che tu devi fare è molto semplice è di fuori degli obiettivi hai dei problemi cadi perché tutti quanti cadiamo davanti a dei problemi cerchi di analizzare i tuoi problemi li ridisegni e vai di nuovo in crescita quindi il classico disegno della scalabilità quello fatto così no? è una chimera che l'altra infatti è più che altro così come tipologia di principi che dà come aspetto Darwin diceva che un'azienda ma Darwin io ho modellato un po' Darwin l'azienda è un organismo vivente che sopravvive in un ambiente in continuo cambiamento ed è una dinamica continua non esiste una cosa stabile l'ho fatta l'ho disegnata è scritta sulla pietra no non è così sarà in perenne cambiamento è una barca in perenne cambiamento e lui ha questo schema che io trovo molto molto carino in cui da una se io creo una macchina che mi porta da dei goals dagli obiettivi a un risultato attraverso una macchina che è fatta come? da persone che da un progetto da un design e le persone devono avere delle capacità delle abilità e devono imparare delle cose se sommiamo questo riusciamo ad avere vedrete tanti schermini del genere che sono molto semplici molto 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 carini un'altra cosa che vi ho voluto portare tra i vari spunti è quello che dice mancato qualche qualche mese fa Bob Proctor che diceva non sei tu che devi essere attento ai tuoi obiettivi sono i tuoi obiettivi che devono essere a tuoi obiettivi e alla volta noi ci poniamo automaticamente dei libri quali sono gli obiettivi che io voglio e che la mia visione mi porta famoso no a volte puntare sulla luna per arrivare alle stelle quindi la guida aziendale è come tipologia di colonna in qualche cosa che deve lavorare nell'azienda devo avere dei valori devo avere degli scopi devo avere degli obiettivi devo avere delle visioni chiare per me che voglio fare l'imprenditore questo è un po' il messaggio che voglio passarvi su questo aspetto qua bastanta chiaro più o meno fatemi qualche domanda così mi aiutate a capire i valori esterni i valori esterni è un modo di comunicare i valori interni che secondo me sono molto più importanti sono in realtà le regole anche di comportamento della tua azienda noi per esempio abbiamo che fa parte dei valori all'interno in azienda in cornice quello che chiamiamo il manifesto o costituzione abbiamo otto regole che servono come comportamento interno e le persone ogni x tempo adesso vi faccio vedere in un'altra tipologia di colonne viene utilizzata per dirle ridirle e ridirle e loro quando hanno un approccio con una persona dovrebbero avere ormai mentalizzato queste tipologie di regole interne di valori di comportamento in modo tale da seguire questa tipologia di comportamento la prima la prima regola di fare le company è l'ambiente che costruiamo ogni giorno ha come obiettivo principale quello di fornire il massimo valore possibile ai nostri clienti tramite formazione consulenza e sviluppo quindi una persona che entra in azienda cosa deve capire? noi devono dare il massimo la regola la bella canonata chi non lo fa non sta rispettando i valori interni regola numero due la diffusione della cultura del marketing è il nostro fondamento ed è indirizzata da piene guidate da imprenditori o aspiranti imprenditori che vogliono aiutare nel loro percorso quindi è un po' più specifica alla diffusione del marketing tra l'ora che noi siamo una società che più diffonde contenuti gratuiti è l'ora di marketing numero tre crediamo che la libertà di azione in termini di orario luogo modalità e operatività sia l'ambiente migliore in cui si possa raggiungere gli obiettivi preposti quindi se veni da noi sai che hai una libertà di intenti numero quattro la concretezza di focus e intenti è il modo migliore per portare a termine i propri compiti massima responsabilità quinta regola il massimo rispetto reciproco guardate che i quattro valori ve lo ho detto quindi vedete come ritornano responsabilità reciprocità il massimo rispetto reciproco tra i vari dipartimenti collaboratori partner e clienti è fondamentale alla fine di creare un ambiente operativo sereno e positivo quante volte abbiamo dovuto riprendere dei nostri dipendenti o collaboratori guarda che questo screzzo che stai continuamente avendo tra voi due sta creando dei problemi non stai rispettando i nostri valori risolvete mettetela ma tiene la pecherata noi vogliamo un ambiente in cui è reciproco non dobbiamo per forza tutti amici ragazzi però deve servire sesta regola ogni persona che lavora con noi può ascoltare può ascoltare la propria etica personale al fine di raggiungere gli obiettivi che ci poniamo nel rispetto di codice morale aziendale settima il nostro ambiente è creativo dinamico e innovativo proprio per questo tutti possono apportare idee esperienze e contributi sapendo che il giudizio che riceveranno sarà basato su dati oggettivi e professionali e che al contempo non ci saranno critiche infondate o soggettive una retina di quante aziende la gente si limita a fare il proprio confitino perché ha paura di essere giudicata per importare valore un'azienda come la nostra che non dico che è tecnologica ma utilizza molto la tecnologia se non c'è innovazione da parte dello studio delle persone come fa a crescere? ascoltiamo quello che dicono le persone perché portano valore aziendale numero 8 la formazione e la crescita sono indirizzate al miglioramento della sfera personale e professionale quindi incitiamo incentiviamo la formazione noi abbiamo una libreria i ragazzi sanno che se vogliono un libro se lo dicono lo ordiniamo lo mettiamo in libreria loro lo leggono l'importante è che magari riportino i tre diciamo così take away della tipologia di libro di concetto ok numero 9 in ogni nostra azione non ci poniamo nella figura di salvatori del business nei nostri clienti perché cioè le volte le aziende dicono no no fai il te fai tutto il te noi ce ne prendiamo le nostre responsabilità però voi usate le vostre quindi quelli che poi ci pongono vota tutta voi forza però non ho risultati risultati siete delle meme e no anche tu non hai rispettato le tue regole l'ultima regola numero 10 il modello di business di lavoro deve servire a supportare il modello di vita quindi le persone devono integrarsi in questa tipologia di costituzione questo nello tre 10 ma ognuno di voi se ci ragiona creerà le proprie 10 tipologie di elementi ok questi sono quelli interni quelli esterni invece sono i valori di comunicazione esterna che poi è figlia di quello che succede internamente perché voi sono tutte cose che avete percepito respirando guardando vedendo parlando con le persone ma sono figlie di una tipologia di organizzazione interna posso fare una domanda assolutamente sì allora l'obiettivo è numerico e dentro una certa data noi dobbiamo entro il 31-12 arrivare a questo volume di fatturato a questo volume di epita a questa tipologia di persone a questa tipologia di condizione di aver lanciato la tal cosa cioè mettere veramente delle tipologie di paletti ok dei riferimenti molto molto analitici lo scopo invece è il nostro scopo per esempio lo slogan che noi noi è facciamo crescere il tuo business punto insieme punto quindi il nostro scopo è aiutarti nel tuo caso a farti crescere non sempre lo è a livello di fatturato alle volte a livello di conoscenza di competenze che poi magari è un valore che ti porterai nella crescita anche nel tuo fatturato però è la nostra alcuni la chiamano missione ok noi la chiamiamo proprio di più scopo qual è il nostro scopo? la regola numero uno che c'era nella cosiddetta cioè far crescere gli imprenditori il nostro obiettivo è veramente far crescere le persone a livello imprenditoriale per migliorare il tessuto qual è l'impatto che noi possiamo dare migliorare il tessuto nazionale come? facendo crescere gli imprenditori per poter crescere nelle loro aziende dare più posti di lavoro lavorare ancora meglio se ci pensi è ciò che possiamo lasciare come traccia del mondo gli obiettivi sono più analitici lo scopo è un po' più di visione missione è l'insieme tra la mission e la vision questa è la guida aziendale è la base di ciò è la prima cosa che bisogna fare quando si va in un'azienda per dire ok mettiamo veramente immaginatela come un albero per dare un altro riferimento visivo quali sono le radici ciò che le persone magari vedono meno ma per quanto sono soliti le radici creeranno un gusto migliore il secondo elemento è questo la seconda cosa qui bisogna mettere ordine è la gestione amministrativa perché? perché anche questo ieri vi dicevo un business rispetto magari alla tipologia di attività legato a cose un po' più aleattorie è basato su dei numeri non è un'azienda più motivata o meno motivata io ricordo aver fatto una tipologia di formazione in quella che siete motivati? sì! quattro motivati? il 20% più bene più 20% un'azienda ha dei numeri se alla fine dell'anno tiri una riga e hai un più sei contento se hai un meno sei meno contento quindi sono i numeri alla fine che devono quadrare e le leve sono i finanziamenti come io decido di finanziare la tipologia di mia attenda sono nella fase 1 o nella fase 2 quindi ho in fase di lancio start up e ho in fase di crescita e la crescita mi chiede soldi e ho creato una macchina di crescita nella quale stavo generando i famosi libri ho investito finora 3.000 euro al mese e ora voglio scalare non mi servono più 3.000 euro al mese mi servono magari 10.000 e quindi ho un dato certo i soldi che metterò nella macchina non ho ancora però l'output sicuro ho una più o meno predizione siete d'accordo? ok l'unico dato certo i soldi che spenderò quindi i finanziamenti qui possono essere di diversi livelli noi ci siamo organizzati per supportare le aziende sulle aziende che hanno secondo noi dei progetti interessanti abbiamo creato delle collaborazioni ora sapete che le aziende possono investire come tutti i cittadini liberi in investimenti azioni etf obbligazioni oro tutto quello che volete ma uno dei migliori investimenti per quanto i più rischiosi sui dati che vi dicevo ieri dei fallimenti delle start up sono proprio le start up esistono tantissime cose ne parlavamo proprio questa settimana fa che eravamo insieme in un evento in cui l'abbiamo fatto da speaker e una di queste aziende ci diceva oggi rispetto a 10 anni fa esistono 10 volte di più i soldi da investire in aziende quindi in aziende ragazzi gli investitori vogliono idee vogliono aziende che sono scalabili li prendano è una figata ragazzi i soldi ci sono bisogna sapere se li voglio utilizzare gli esterni che chiaramente non è che ce li regalano ce li danno a fronte di quote di determinate situazioni variabili però sono soldi che possiamo avere come acceleratore per quello che riguarda la spinta di marketing o commerciale o quello che è o di tecnologia o di produzione oppure come si parlava ieri fare come nel 99% degli imprenditori fare il bootstrapping cioè investiamo i nostri soldi nella nostra azienda chi di voi investe i soldi nella propria azienda alzatevi la mano quasi tutti ci devono essere strumenti di controllo di gestione e di organizzazione fiscale e poi c'è la gestione di capitale perché certe aziende che lavorano con noi certi imprenditori che magari sono passati da i famosi 300.000 euro a 10 milioni e hanno magari un'epità da 3 anni del 20% vuol dire che il loro incasso personale ragazzi di 2 milioni ragazzi sono soldi eh magari voi siete tutti ricchissimi io no quindi per me sono soldi quindi 2 milioni a quel punto degli investimenti dove li faccio adesso lasciarli in banca vuol dire perdere in questo momento il 10% abbiamo una tassa tra virgolette invisibile che ci porta il 10% quindi devo investirli un imprenditore oggi più che mai non deve essere solo capace di saper guidare la propria azienda e di cercare di portarla a profitto ma quel profitto saperlo gestire a livello personale o aziendale non abbiamo dei budget dei soldi investiti in diverse forme non abbiamo creato una struttura a livello organizzativa con delle holding con delle strutture un po' più amiche quindi un imprenditore che raggiunge il suo risultato che ha dei profitti va bene rinvestire nell'azienda ma va bene anche magari gestire i capitali in altro modo ci siete a un ragionamento? ok un po' di spunti che vi dicevo prima i ricavi fatturati sono vanità l'utile è sanità il flusso di cassa i soldi reali che girano sul conto sono la cosa veramente più importante noi ogni lunedì guardiamo questi dati qua guardiamo conto economico bilancio ma anche il flusso di cassa per vedere come siamo messi e questo ci permette di dire ok possiamo investire di più in una tal cosa magari possiamo prenderci una persona in più magari possiamo prendere un ufficio più grande magari ridurla perché non ci serve sono tutte valutazioni che fai ma sui numeri ragazzi non sul boh più o meno stiamo andando ho un fatturato di eppure in Italia vabbè in generale anche in questo periodo quando ci andiamo cos'è che ci scambiamo come informazione? eh una migliore cliente che fattura 5 milioni poi magari vai a vedere il 3% ma come fai a vivere con l'acqua alla volante ti basta una trimestre in crisi che vai sotto siete d'accordo? è meglio magari un ricavo un fatturato di un milione nel 2,4% per me lì sei veramente un signore chiaramente non è solo legato alla nostra bravura al nostro terreno ragazzi dipende dal modello di business dipende da dove siamo sedendo serviti pretendo presumo che ho tipologie di EBITDA più alti se invece faccio tipologie di prodotti ho magari delle EBITDA delle marginalità un po' più basse ok? ci siete? però qui ci siamo un po' più un vecchio detto la crescita sappiate che drena liquidità quindi si commettono tanti errori si stendono tanti 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 errori diventa fondamentale avere un sistema operativo quindi qualcosa che ti permette il controllo e no cash vuol dire no budget per gli investimenti di gestione le società più funzionali hanno tre volte tanto il cash flow di tutti gli altri competenti cioè chi ha un cash flow molto più molto più veloce generazione di cassa e quindi di liquidità ti permette di poter velocizzare i processi e come lo controlli? attraverso i cicli nel ciclo della conversione del denaro da quando io vado alla parte di vendita a quando io vado alla parte di pagamento più io riesco ad anticiparlo ovviamente meglio è voi lo sapete molto bene noi sul flusso di cassa l'amministrazione è abbastanza rigida le volte anche troppo ce ne rendiamo conto lo sappiamo molto bene ma è nella loro procedura prima di emettere fattura prima di eseguire il lavoro perché perché in passato ovviamente abbiamo fatto il lavoro ti pago domani dopo domani dopo domani scomparsi e noi abbiamo fatto questo lavoro prima prendi soldi ragazzi meglio è quando tu hai soldi hai il potere in mano al di là dei contratti al di là degli accordi tu sei una persona onesta non lo metti in dubbio dall'altra parte finisca che sei una persona onesta non lo metti in dubbio ma purtroppo non sempre succede e quindi devi agire in un certo modo ok quindi quando tu riesci ad anticipare il ciclo di rendita o il ciclo di produzione magattino rispetto al ciclo di consegne al ciclo di fattura di pagamento riesci a farlo prima tanto meglio prima il soldi in mano meglio è a brevi tempi di ciclo elimini gli errori migliori il modello perché nel modello di business vai sempre a migliorarlo se per esempio stavi facendo un pagamento dilazionato noi per esempio ancora tanti di voi ci avete un pagamento dilazionato però abbiamo implementato lo strumento di YataPay che è un po' più automatizzato perché? ma semplicemente perché facciamo un accordo l'abbiamo deciso bene io non voglio più pensare a quando tu dovrai darmi i soldi abbiamo deciso che non mi paghi tutto subito mi paghi in due rate mi paghi in 12 mesi faccio un esempio va bene ok però abbiamo abbiamo stretto una mano e basta non voglio ogni mese rirognare sui pagamenti sprechiamo energia roviniamo il rapporto concentriamoci solo sulle cose che contano io ciò che devo dare a te tu ciò che devi dare a me siete d'accordo? quindi quello diventa un elemento importante perché durante il processo di lavoro certi bug avvengono e ovviamente li devi affrontare e vai a modificare vai a mettere certe esperienze vai a modificare i contratti vai a modificare gli accordi ok quindi questa è un po' la gestione amministrativa quindi la seconda cosa per rendervi scalabili è l'aspetto di gestione finanziaria dovete prendere un controllo chiaro di ciò che è l'aspetto finanziario non vuol dire che dovete diventare dei commercialisti ragazzi a ognuno il proprio mestiere ma voi avete il controllo sì noi abbiamo raggiunto un controllo tale che a livello predizionale quando arriviamo nell'incontro trimestrale con i commercialisti siamo perfettamente allineati wow questo vuol dire controllare l'azienda ragazzi a livello gestionale ok ci siete? e arriviamo alla colonna centrale me la metto me la metto con un colore diverso perché qui è croce o delizia della tienda per rendervi scalabili ve l'ho detto prima due cose la prima esco dall'operatività della tienda e faccio solo quello che magari vi contete magari sono l'immagine dell'azienda sono il giovane mirana della tienda vabbè faccio quello ma tutto il resto va in autonomia tante aziende sono veramente gestite così e l'altra cosa devo creare qualche cosa per farmi scalare per farlo ho bisogno di leader che lavorino nel loro dipartimento in modo veramente efficace riportino delle regole interne se io esco dall'azienda e all'interno ho lasciato un buco di gestione e le persone i vari responsabili non fanno più quello che devono fare cosa succede in quell'azienda? il caos calano i numeri iniziano a sprecare iniziamo a ad arrabbiarci e tutto quello che ne può c'è quindi i quattro blocchi che vogliamo riportarvi su quest'area partendo dal basso la prima cosa è l'organizzazione operativa dovete iniziare ad avere un manuale per ogni tipologia di area di business un'azienda da cosa è formata voi siete qua voi siete l'azienda per semplificare al massimo l'organigramma da tre aree l'area numero uno è quella amministrativa barra customer care quindi la gestione della base del mio tempio il cliente la seconda è quella su cui oramai conoscete molto bene marketing e commerciale e penso che abbiate ben percepito quanto è un'area unica non è il silo marketing che fa i cavoli suoi è il silo commerciale che fa i cavoli suoi quel mondo ragazzi è finito è anni 90 non può esistere un'azienda che non ha unione di questo dipartimento è un grave errore e questa è una tanto lo sapete è la nostra specialità lo vediamo tanto nelle aziende la terza area ovviamente è il prodotto e il servito che date che deve fare ricerca e sviluppo che deve continuamente rinnovarsi in Norvegia investono il 4,6% ogni anno del fatturato di ricerca e sviluppo in Italia l'1,2 un quarto 4% del fatturato guardate quanta roba se fate un fatturato di 1 milione sono 40 mila euro che devo destinare al miglioramento di quest'area qua wow impensabile quindi l'organizzazione operativa parte che io devo avere un manuale per quest'area qua se vogliamo questa e questa un manuale di marketing e commerciale e un manuale operativo facciamo l'esempio io entro in azienda da voi domani mi devo i primi giorni io non devo far altro che leggere i vostri manuali leggo ciò che avete in mente ciò che avete nel cuore e ciò che volete comunicare al mondo e come devono essere fatte le cose non devo perdere tempo io ho detto allora la amministrazione ci siete? Erika la prima cosa che sono potuto fare quando sei entrati in azienda ti ricordi? leggere il libro leggere il libro potrò continuare allora ora l'imprenditore medio vedi che sto fatturando sto pagando ma è il lavoro produce no? la prima cosa che devi fare è entrare dentro l'azienda ma non deve leggere qualcosa a caso deve leggere il vostro manuale deve leggere l'azienda l'80% sarà lì quindi ci deve essere un manuale se io entro in amministrazione devo capire come stavo lavorando se entro dentro il customer care in supporto devo sapere come devo comunicare se entro nel marketing devo sapere cosa fare ok? è facile secondo voi creare e mantenere un manuale? è un casino è difficile perché la tendenza che abbiamo è quella di andare per attività è quella è quella no no assolutamente noi abbiamo lavorato l'altro ieri con tutti i project manager su tutta l'ottimizzazione dei processi di copi bla 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 perché è un processo continuo e mentre io lavoravo con i ragazzi disegnavo i manuali le procedure e a volte deve essere anche uno schema visivo quindi io per esempio amo la io sono molto più vale più tecnologico di me per il solito non abbiate capito no? io ero alla lavagna e disegnavo con i post-it e dicevo ok cosa succede dopo questo? cosa facciamo dopo questo? e creavo il flusso a livello visivo io sono visivo ho bisogno di un qualcosa di semplice che poi me lo ricordo ma era lì che scriveva il manuale per aggiornarlo e trovavamo in parallelo in questo modo qual è l'output? domani dove si entrare un nuovo PM? la prima cosa che faremo è leggersi il manuale ok? ci sente come un aggiornamento? perfetto manuale procedure e qui andiamo sul ritmo il ritmo dei meeting è fondamentale i meeting sono fondamentali ma non fatti a caso devono essere meeting strutturati ovvero meeting nei quali voi definite quelle che sono le situazioni i meeting in linea di massima sono sono di diversi livelli c'è il meeting annuale quest'anno faremo disperemo poi c'è il meeting trimestrale che per noi è importantissimo perché è una reunion del team che ci permette di dire cosa abbiamo fatto nel trimestre precedente dove andremo il prossimo trimestre e ogni trimestre ragazzi è un capodanno quindi quello è l'obiettivo arriviamo a quell'obiettivo e tra 90 giorni è fattibile poi ci sono i meeting settimanali dove il team noi per esempio lo facciamo con tutti i responsabili ma lo facciamo insieme anche al team marketing commerciale qui ragazzi ci sono i setter infatti ci sono tre dipartimenti per noi marketing setter commerciali e in questo contesto qua è molto bello uno perché l'azienda sente il contatto col cliente partiamo dai commerciali qual è il vostro feedback abbiamo questi feedback qua abbiamo questi ok setter come sono gli appuntamenti perché abbiamo questo spostamento ok marketing come possiamo tarare la quadra per comunicare meglio e mentre succede questo che è un'operatività in esterna l'azienda percepisce l'amministrazione il customer care quello che è la tipologia di movimento di come si muove il mercato i meeting perché sono importanti perché quando vi cresce un'azienda la complessità aumenta in maniera esponenziale se voi foste in due le start up sono in due è facile la comunicazione io a te te e a me e a due ma quando diventate già tre la comunicazione diventa sei quando la comunicazione diventa a quattro ragazzi è in più quattrocento per cento e nasce il casino vi è mai successo nelle vostre aziende ok quindi la complessità organizzativa deve essere fluida da degli elementi scritti da un insieme di situazioni ma da un ritmo cadenzato mettete dei ritmi specifici che vi permettono di poter gestire meglio le persone e devono fuori un sacco di cose a livello gestionale da un'altra parte però l'unico modo per far crescere un'azienda è prima far crescere le persone che appartengono se non crescono le persone non creerete il vostro team di marketing il vostro team commerciale all'inizio dovete investire su queste persone e come si entra in un flusso se vogliamo di persone prima architettura poi metto dentro le persone che servono per quella tipologia di architettura alleo di competenza e alleo di valori ok quindi quando però avete preso una persona se fate caso non è niente di diverso che quando fate marketing per trovare nuovi clienti quindi prima cosa faccio identifico il mio cliente ideale faccio un'azione di marketing per reclutarlo faccio un'azione di conversione per selezionarlo poi lo inserisco devo avere un piano di inserimento un minimo di formazione io parlavo prima di manuali io parlavo di ok la prima cosa devi fare questa poi la seconda cosa che dovrai fare sarà questa la terza cosa sarà questa poi sei pronto le ragazze sono da due settimane che sono con noi finito questo evento inizieranno un'attività ma non abbiamo fatto il giorno 1 prima l'inserimento poi allenamento dalla prossima settimana inizieranno a fare un'azione di outbound fatto in un certo modo quindi questo è il processo che dobbiamo fare quando vogliamo allargare le persone sappiate che le aziende che investono nelle persone hanno due vantaggi il primo aumentano i propri ricavi la seconda hanno persone più fedeli perché le persone che stanno con noi vogliono crescere non solo a livello finanziario è normale ma non è quella la prima cosa vogliono crescere come persone come esperienze come competenze giusto? quindi se noi le facciamo crescere rimarranno con noi e saranno più fedeli e perdere un talento per ripartire da capo ragazzi è un problema per un'azienda di un certo tipo anche a livello economico quindi la domanda che devi fare è questa oggi saresti disposto ad assumere tutti di nuovo da capo? cioè il team che hai è il giorno zero hai le persone a fianco a te è cruda come domanda ma la stessa cosa va fatta da me imprenditore ai miei collaboratori dai miei collaboratori è ancora oggi l'azienda in cui io voglio stare? secondo top grading il costo di una cattiva soluzione è pari a 15 volte il loro salario quindi se voi assumete una persona sbagliata il team vi dà un danno ben superiore a quello che è la tipologia di approccio quando invece siete con una squadra siete in meeting magari noi lo facciamo trimestralmente parlando voi potete farlo anche sia in esterno con i vostri clienti sia in interno le tre domande che vi dicevo ieri cosa la seconda della società dovrebbe iniziare a fare cosa dovrebbe smettervi fare e così dovrebbe cominciare a fare guidate le persone nella tipologia di meeting vi assicuro che emergono delle cose fantastiche per chi ha un'azienda con più di almeno 6-7 collaboratori dipendenti quello che volete emergono delle cose fantastiche che vi danno veramente una grande visione il mantenimento delle persone in azienda che sono il punto di forza sono i loro punti di forza non demotivarlo e impastidirle alle volte il problema dell'azienda è che l'imprenditore è un rocchivalle e infastidisce più il lavoro dei propri collaboratori definire aspettative chiare quindi PPI report meeting dare riconoscimento e apprezzamenti pensate che secondo le regole dell'intelligenza emotiva dovremmo darle tre volte a uno cioè io dovrei andare dai l'aria se la mia collaborazione allora l'aria brava stai facendo un ottimo lavoro va molto bene mi è piaciuto molto la tal cosa che hai fatto con questa cosa però va migliorata questa cosa va migliorata perché non è in linea con la tina non è in linea però ok andiamo avanti con questo miglioramento qui uno uno ok Tim Ferriss lo chiama come che sarà toast ti metto il panino il prosciutto lo metto in mezzo la mierda la metto in mezzo e te lo caccio così con le mogli il rapporto è 5 a 1 assumere di meno ma pagare di più se non avete persone che guadagnano bene stanno bene con i valori aziendali e fanno un lavoro che ti piace che motivano ad andarsene e allenamento di valori e scopi questa è l'organizzazione ecco se fate caso a livello di struttura vedete che ho messo le due colonne naturali cioè le parti fondative dell'imprenditore che devono poi passare a tutto il resto la parte analitica di business la parte rossa l'ho messa in mezzo perché sull'organizzazione ragazzi c'è il mondo da poter dire come anche nella parte di customer care sono tante cose che si possono fare molto molto interessanti ma questi tre blocchi qua ragazzi vi aiutano a passare da questo livello qua a questo livello qua e quindi vedete che si è potuto creare un tempio se vogliamo o un palazzo che vi aiuta a passare dal livello di crescita al livello di scabolità vi è arrivato un po' il concetto? sì ok da dove si parte? si parte da qua si parte da un lavoro per ogni area andare a vedere in ogni azienda come sei messo e dove devi lavorare di più è un po' come quando io giocavo a calcio e dopo i disanni decisi di voler fare la maratona io però come calciatore ero veloce giocavo a ala per farvi capire quindi andavo in velocità quando andai dall'allenatore quindi limini per prepararvi per la maratona lui mi disse ok fammi vedere fammi un giro della pista di 400 metri ti guardo come corri e poi ti dico cosa devi fare si mi dice così e lui mi dice a correre e feci il mio giro quando tornai lui mi disse per te fare la maratona sarà molto duro e lui mi dice perché perché tu sei uno scattista sei dalla corsa sei proprio di quelli la maratona invece ha una tipologia di corsa diversa ha più muscolo bianco che quello rosso quindi quindi devi fare un lavoro del genere personalizzato su quello che sei tu ci siete in un ragionamento? bene quando tu vai in un'attienda dal mio punto di vista da quello che stiamo scoprendo sempre di più tra l'altro è una delle cose che se vorrete potremmo fare per darvi una mano è difficile partire da un punto di partenza questo va bene per tutti perché siete in un settore diverso avete valori diversi avete un bilancio diverso avete base diverse avete un mercato diverso quindi la cosa che bisogna fare è entrare in ogni attienda è dire ok guardiamo dove sei ora per ogni area dove possiamo arrivare e questo è il piano di esecuzione grazie a tutti grazie a tutti